Economia toscana, quella definita DOP Economy, che riguarda soprattutto l'agroalimentare, ma che è spesso soggetta alle cosiddette agritruffe. La chiamano DOP Economy ed è una fetta consistente della produzione agroalimentare toscana, formata da 89 prodotti a denominazione che valgono 1.361 milioni di euro ed è il quinto posto a livello internazionale. Il maggior contributo arriva dalle province di Siena con 676 milioni di euro e Firenze, 273 milioni, chiude il podio grosseto. Il prodotto che primeggia è il vino, con 58 produzioni tra DOP e IGP. Per il comparto food si contano 31 prodotti, tra cui il primato dell'olio extravergine d'oliva, un'etichetta toscana che per questo è anche sotto attacco della cyber agropirateria. Il web è la nuova frontiera del cosiddetto Tascan Sounding e delle frodi alimentari che colpiscono la reputazione e l'immagine della produzione, danneggiando consumatori e produttori. L'allarme di Coldiretti. La Toscana è stata in prima fila lungo tutto il percorso normativo che ha portato e porterà nelle prossime settimane all'approvazione del testo unico di riforma delle indicazioni geografiche. Sono 112 gli annunci scovati e denunciati alle autorità sulle piattaforme online nell'ultimo anno che propongono ai vari naviganti sotto mentite spoglie prodotti che sono testimonial di eccellenza nel mondo. Tale e tante novità, una che sicuramente questo regolamento sarà ricordato, è un rafforzamento del sistema delle tutele. Tutele sia sul mercato ma anche le tutele online, cioè tutti quei siti internet fake che girano nel mondo internet e che possono copiare o addirittura vendere prodotti indicazioni geografiche che non hanno a che fare con gli originali. In questo caso il regolamento prevede una sorta di blocco o di oscuramento del sito fake grazie a questo sistema di allerta rapido che è stato istituito e che entrerà in vigore non appena il regolamento sarà pubblicato in gazzetta ufficiale. Nella hit parade di Coldiretti troviamo al primo posto l'olio toscano IGP seguito al secondo dal pecorino toscano DOP chiude il podio la finocchione IGP seguito al quarto posto dai cantucci toscani IGP e al quinto dal prosciutto toscano DOP.